cosa mi è mandato minuto 49 punto 20 votiamo voto giunta anch'io la tesi cioè si capisce la tesi o ci sono tutte quelle cose il problema dei video di Marco Merlino secondo me è questo sono video per un'utenza che evidentemente il pubblico con lui si rivolge che ha una soglia attentiva di poche frazioni di secondo io lo capisco perché comunque comunicare a quell'utenza lì l'utenza un po' comunicare a quell'utenza lì non deve essere ma quale utenza perché non la insulta e basta non voglio essere e poi sta zitto è facile e quindi devi veramente veramente fargli così ogni tre parole perché sennò questi si abbioccano ma in realtà soprattutto in questo format c'è gente molte persone mi hanno detto finalmente è tornato perché è gente che c'era il primo quindi è proprio adulta io penso quelli nuovi hanno questo problema qua ma quelli là che mi hanno seguito fin dai tempi non hanno questo problema mentalmente però io non mi trovo molto cioè un video come quello tipicamente mi viene a dire mi dici quello che mi devi dire senza tutte queste gag quindi ci sta cioè ha un suo un suo senso insomma c'è definiti coglioni ma proprio a tutti ma tipo degli idioti del cazzo che non avete un minimo di cervello fate schifo per lui non valete niente un'utenza che guarda me che non lo dico in realtà in realtà no l'editing viene usata da te per parlare tante cose con tante emozioni molte parti nere molte parti silenziose insomma ma poi io sono scemo perché penso che sia sempre palese quello che magari alla fine non è ma uno dei motivi per cui utilizzo le tante gag è che veramente un discorso pesante quello su internet e non dovrebbe esserlo quindi è veramente uno dei pochissimi modi che soprattutto io visto che io non sono un opinionista non ho mai studiato sociologia se non al liceo devo solamente far uscire quello che ciao marcolino ciao bird was quello che sento è proprio un c'è un c'è un tizio che ha scritto che sembra solamente un video per fare una sega a me e ai miei fan e io ho detto ma assolutamente sì ma non capisco perché debba essere anche un insulto è veramente una situazione che sento io dentro di me quella che sta succedendo e voglio comunicare sia a me stesso che agli altri non siamo da soli siamo tanti stronzi a stare male però ormai averlo detto dopo questo video sembra una giustificazione quindi ho già perso in più ricordiamoci se tutti degli idioti senza attenzione che cazzo fai ma quali sono di dario penso che in poche parole quello non ha capito un cazzo sia lui non perdiamoci in questo ha ragione lui o io ti faccio un'altra domanda super sincera perché ci tengo a sapere il tuo modo di pensare soprattutto su argomenti più seri che consiglio terresti a una persona in questo caso a me che non ha più voglia e coraggio di cercare l'amore perché in passato ho subito un trauma riguardo quest'ultimo nel mio caso ho amato una una solo persona nella mia vita ma non ha mai amato me e forse per questo non ho mai più realmente cercato un'altra persona cerco un'altra persona smetti di avere paura non c'ho niente da dire cioè ma tu stesso sai che sei uno scemo a comportarti così vuoi che te lo dico io e che ti trovo emotivi non vedere l'amore in maniera così soggettiva scopati chi puoi al più presto e non pensare neanche all'amore perché 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 immagina che pressione debba sentire la tua prossima parte se leggesse una cosa del genere ma che di che cazzo stiamo parlando dell'amore bello eh ma non devi sposarti con qualcuno non devi per forza essere corrisposto non devi per forza ottenere tutto quello che non hai ottenuto prima o dopo devi rinfrescarti un attimo e cercare qualcuno non non particolarizzare la prima persona ad amare amala non avere standard e cresci un po' perché purtroppo i traumi ci fanno rimanere piccoli ci bloccano là e iniziamo a pensare cose stupide come non troverò più l'amore c'ho Marco che ne pensi dell'immigrazione sapevo che avevi fatto le scienze umane cazzo lo sto dicendo anch'io mi sta piacendo un sacco finora ora sto facendo le topiche freudiane minchia che figo tutto superato ma tutto fighissimo eh eh sì scienze sociali pedagogia e psicologia parla di così tante cose è pazzesco Gumball è proprio avanti con i tempi e fa davvero molto ridere uno dei migliori cartoni di Cartoon Network dopo Stephen Universe è Adventure Time secondo me non lo so non lo so sei stupido secondo me sei stupido minchia ci sono rimasto male e vi ha dato degli stupidi sono stato pure con lui da dare mi sembrava un grande che cazzo vi insulta così tanto che cazzo vi insulta così tanto pensa siccome ho fatto un pezzo da essere tutti stupidi si può merrino da pazzi ragazzi mi ritengo un utente medio della chat ho un dottorato no invece sei stupido per Wesa Channel sei uno stronzo idiota no voglio che mi chiede scusa voglio che vi chiede scusa chi ti ha insultato no a me nessuno a voi ha detto ciao pinguzzone Wesa ha detto che siete degli stronzi ha detto siete di ha detto il fandom di Marco sono tutti dei figli di buttana ha detto questo io do laurea e ti seguo da otto mesi yes eh ma sei uno minchia sono 500.000 su su youtube Wesa può clucciarmi il cazzo stiamo molto calmi stiamo molto calmi in siciliano l'ho detto comunque il video non l'ha visto qual è la sua motivazione del perché non gli andava tanto ma come non l'ha visto no ma ha fatto anche la battuta tutte queste gag dimmi solo quello che vuoi dire no l'avrà visto ma vedi che veramente lui su me può dire quello che vuoi però è sempre la prendo sempre male quando insultano la community perché io sono stato in tante fiere ma tipo più di cento cioè non cento diverse ma almeno cento volte ci sono stato e ho conosciuto gente tanto tanto diversa molti ragazzini ma molti uomini e donne con una storia così diversa ma anche dalla mia perché uno si aspetta nerdino ciccione ai denti gialli parla di videogiochi che cazzo posso seguirlo e invece molto diversi c'è molto anche mi ispira questa cosa qua e quando qualcuno dice la community di Marco ma anche la community di ciccio gamer la community di quello ma come cazzo ti permetti e la risposta è con la facilità di di dire di una cosa o bianco o nero e secondo me dovrebbero vedere il mio video queste persone qua perché secondo me è per queste persone qua che internet è un po' diventato come è diventato non voglio gettare una lancia di guerra verso WES perché secondo me è molto facile dire quella community là io spesso lo dico di 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 quelli dei Pantellas di quelli che seguono i Pantellas e non mi scuso perché perché veramente penso che ridere a quelle cose sia la radica lunga su una persona o corta o cortissima però di persone che come me non hanno fatto solo una cosa ma le hanno fatte almeno tre e in tre modi diversi dire quella community non è strano solamente perché eh generalizzi perché viva la generalizzazione serve in qualche senso ma sta generalizzando tanti pianeti diversi di persone che magari vedono un video e gli fa schifo ma poi ne vedono un altro e gli piace e decidono di restare con me c'è molta gente che decide di restare con me anche dopo che esce quel video là che non gli è piaciuto per niente a volte ci sono stati vari fallimenti durante la mia carriera perciò questo per dire che mi ha un po' ferito nel cuore eh dovrebbe chiedere scusa ehm dita a Marco di fare scary time di un merda ragazzi eh oggi niente scary time solo per dare fastidio a purple poll fvenci eh faccio un poll se tutti decidete di non fare scary time solo per buttarla in culo a quell'idiota io non lo faccio con tutto il piacere del mondo vi giuro voglio solo rovinare ma anche di 0,1% la serata a questo stronzo facciamo il sondaggio beijo